buongiorno a tutti sta per iniziare la 43esima tappa ad oggi sono a 1328 chilometri fatti e oggi partirò questa splendida tappa la farò insieme al mio grande amico insieme a Walter Baby Lapper ragazzi e la sua ragazza con lui ne ho passato veramente tutte 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 di più ci vediamo all'arrivo ragazzi ciao ciao